Empoli-Juventus è finita 0-0, secondo pareggio consecutivo della Juventus, seconda partita sullo 0-0, difficoltà nella costruzione di gioco, difficoltà nel segnare. Se le prime due partite erano state completamente diverse, in queste due partite abbiamo visto una Juventus molto in affanno, molto in difficoltà. Cosa dire? Sapevamo che sarebbe andata a finire così, sapevamo che la Juventus di Tiago Motta avrebbe avuto bisogno di tempo e questo è quello che in queste ultime partite ci sta dimostrando. Deve crescere, devono crescere i giocatori, devono amalgamarsi, devono cominciare ad assorbire quelle che sono le indicazioni dell'allenatore e poi sperare che il gioco che oggi abbiamo intravisto possa diventare più veloce e più incisivo, perché la realtà dei fatti sia contro Lempoli, che contro la Roma le partite sono state identiche. Le due squadre che abbiamo affrontato si sono chiuse, hanno difeso molto bene, ogni tanto ripartivano, ogni tanto attaccavano un po' loro avanzando con il baricentro, ma la realtà dei fatti è che abbiamo incontrato due squadre molto ben organizzate per quanto riguarda la difesa, che a volte ci hanno anche messo in difficoltà, perché è vero che le due partite sono finite 0-0, ma è anche vero che abbiamo rischiato sia contro la Roma sia contro l'Empoli di subire gol. Poi Gatti in modo particolare ha fatto un'ottima partita difensiva e quindi ci ha permesso di portare a casa lo 0-0 come altri difensori. Per carità, Colulu non ha giocato male, appena arrivato, senza grande voglia, in effetti la sua espressione in campo era sempre abbastanza accruciata, non era certamente un giocatore allegro di essere qui, ma fa lo stesso, l'importante è che faccia le buone prestazioni, l'importante è che sia utile alla Juventus, poi se è anche triste, se ha la saudage, se ha la malinconia, se ha la voglia di tornare a Milano, saranno poi fatti i suoi, l'importante è che faccia una buona prestazione. D'altronde Milano è vicino, sono 100 km mi pare, da Torino a Milano, quindi non è che o 200 adesso non mi ricordo bene, ma comunque non è che si sta parlando di lontananza enorme, quindi se vuole andare di tanto a Milano ci può andare, per carità i soldi c'è gli ha, la macchina pure e se non vuole c'è pure il treno. Detto questo, la partita contro l'Empoli è stata più o meno uguale, molto simile per lo meno, a quella contro la Roma, due squadre molto similari che hanno giocato difendendosi, cercando di chiudere gli spazi, organizzandosi in modo millimetrico in difesa e questo ha messo in difficoltà la Juventus, perché il gioco di palleggio, il possesso palla, il giro palla, le verticalizzazioni, gli inserimenti sono stati troppo lenti e prevedibili. È una squadra ben organizzata, certamente su questa lentezza ci vanno a nozze, perché gli rende il lavoro molto più facile. Non avevamo consensato che contro la Roma è stato molto molto propositivo, avevamo Nico Gonzalez che qualcosina l'ha fatto, anche se insomma tutto sommato è da rivedere, ragazzo perché comunque non ha ancora convinto, però si è visto qualcosina di interessante da parte sua. Per quanto riguarda la squadra deve migliorare la velocità, deve migliorare gli inserimenti, deve migliorare l'imprevedibilità, anche cercando di andare sull'azione personale, cosa che difficilmente facciamo. Le verticalizzazioni che se nelle prime due partite erano evidenti ed erano ben fatte, sto giro e anche la partita prima, sono mancate e questo lascia veramente dispiaciuto. Partendo poi dalla partita nello specifico non ho capito e continuo a non capire come Pezzella o quello che era, non mi ricordo il giocatore, non sia stato espulso ma solo ammonito per la parte è stata data a Gatti perché quel gesto di anche se non spacchi il naso a un avversario è comunque da rosso perché la palla era lontana. Il giocatore ha avuto la volontarietà di fare male, di colpire Gatti e quindi secondo il regolamento non è espulso. L'arbitro ha visto un giallo perché probabilmente ha visto male, non lo so cosa ha visto, non so come abbia fatto vedere un intervento lontano dal pallone. Ok, il check e il VAR lo dovevano richiamare, dicendo guarda questo qui può essere da rosso, niente da guardare perché lì era testata volontaria e se avevamo 20 minuti con un uomo in più chissà cosa succedeva, perché magari pareggiamamo e va bene, però credo che questa roba qui comincia a essere discriminata perché ad altre squadre, vedi gli amici di Milano, l'Inter, questa roba probabilmente diventava un rosso richiamato dal VAR, da noi invece rimane giallo e non si sa per quale motivo perché credo che sia evidente che quello lì fosse rosso. Poi se uno vuole essere generoso e dice che non l'ha visto è un conto, ma con il VAR in linea teorica questa roba qui era bella e evidente, però stranamente quando capita da noi non la vede nessuno, ma va bene così, siamo abituati, andiamo avanti, tanto i favori li fanno solo a certe squadre, alle altre non le fanno proprio, ma va bene così, cosa volete che vi dica, a un certo punto il pareggio ce lo siamo meritati, non voglio dire che quella roba lì avrebbe cambiato in assoluto la partita, anzi probabilmente l'Empoli sarebbe ancora più chiuso con l'uomo in meno e molto probabilmente non avrebbe fatto passare uno spillo, però il regolamento dice una roba e sarebbe bello ogni tanto rispettarlo, ma questa è una mia opinione, che non è condivisa da tutti, lo so, però cosa volete che vi dica, io la penso così. Detto questo spero che il video vi sia piaciuto, anche perché non credo di avere altre cose da dire, se avrò memore di questa partita, altre cose ve le dirò in qualche aggiornamento, scusate mi sono un po' perso, comunque se avete visto il video e vi è piaciuto lasciate un mi piace, ma anche se non vi è piaciuto fare lo stesso, un mi piace non costa nulla, perché no, un bel commento per capire come la pensate di questa Juventus che è un po' fatica in questo inizio di stagione, nonostante le due belle prime partite sono finite decisamente molto bene, perché no, se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale che fa sempre bene e fa bene la salute. Vi saluto, buona serata, ciao a tutti.